Ciao a tutti ragazzi, io sono MineForce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati su Rainbow Six Siege, nella modalità Mute Protocol. Buona visione. Eccoli. Sì, no raga, veramente, ho fatto solo assist. Che palle. No raga, oh, ehi. Non puoi sbucare così da dietro. C'è qualcuno qui. Oddio raga. Bene, c'è qualcuno lì? Dai, ti ho visto, dove sei? Oddio. Madonna raga, che paura, pensavo fosse un compagno. Oddio. Madonna raga. Bene. Molto bene. Upgrade. Ah, ma è morto. Ok, stavo sparando ad un morto. No, che paura. Ok. No, 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 aiuto. No, fammi levare questo colpo singolo, porca. Ok, no. No, 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 no. Sì. No, è il pompa raga, aiuto. Prendiamo la cura. Eccolo uno. No. Ma dove pensavo di averlo mirato bene? Aiuto. Aveva il martello. Che culo. Affanculo. C'è uno, c'è uno. No. No, raga. Ah, però abbiamo vinto, dai. Stiamo giocando 4 contro 5. Ce la possiamo fare. Ultimo round. Match point. Forza, forza, forza. Vado troppo in ansio. Vai, 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 vai. Capkan, forza, muoviti. Di qua. Di. No, raga. No, raga. Mi pare di averlo preso, ma com'è possibile, raga? No. No, vabbè, però, cazzo, quanti ce n'erano? Ah, vabbè, vediamo se riusciamo a fare qualcosa, dai. Dove sono tutti? Ah. Che bello. Affanculo. Neanche il tempo di avere una soddisfazione. Sì, ma stanno tutti quanti a camminare lentamente per sentire me che corro. Ma correte, dai. Vai, ora cammino anche io così. Vediamo se cambia qualcosa. C'è qualcuno qui dietro. L'ho ferito un po'. Dio, c'è qualcuno qui. No, raga, due di loro, ovviamente. Raga, questo appostato che ci fa qui? Bravo, l'ha ucciso. Siete a un passo dalla vittoria. Non grazie a me, però, dettagli. Bene. Dove, dove? Dove, 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 non ho capito. Di qua. Ah, è morto, ok. La tua squadra ha un martello. Vai, veloce. No, è stato ucciso. Vabbè, ho fatto assist. Raga, non riesco a ucciderli. Ok. Upgrade. Eeeh, sto a livello 3. Che bello. C'è un altro. Raga, lo sapete, io mi confondo quando arriva l'arma a colpo singolo, perché non me lo aspetto. Ok. Scusa se ho rubato la kill. Ah, ce l'ho fatta, vaffanculo. Che stava qualcuno qui? Ah, vabbè, quello da 30 chilometri. Raga, veramente, se dovessi descrivere questa partita incasinatissima. Dove, 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 dove? Non l'ho visto. Ah, stava proprio sotto la scrivania. Bene. Ora dobbiamo controllare gli angoli di tutti i mobili. Sì, vabbè, io sparo ai fianchi, boh. La tua squadra ha un martello. Vai, andate, raga. Bene. Devo veramente ringraziare un sacco i miei compagni di squadra. Grazie mille, raga. Questa volta riuscirà il nostro Mindforce a ricevere un pacchetto? Oh, pacchetto alfa. E vediamo, uscirà qualcosa di bello? Ne dubito, ne dubito molto, però speriamo. Ok, prossima partita. Ora abbiamo anche il bonus di squadra. Per favore, ce la posso fare. Ce la posso fare. Concentrazione. Che la forza di cavera sia con me. Dai, perché l'altra volta mi ha portato fortuna e questa volta no? Posso prendere io l'upgrade? No, eh, ok. Me lo ricorderò. Vediamo di qua. No! Perché stai nell'angolino? Di qua, raga. Upgrade. Dov'è? Sì, raga. Madonna, che ho fatto? Oddio. Oddio, però sto a 14 di vita. Non mi conviene. Vabbè, sono morto. Esci? Ti prego, esci. Non esce. No, raga. Che cazzo. No? Dai, esci. Sì, vabbè. Subito arrivano in soccorso gli altri compagni. Ragazzi, hanno il martello. No! Vabbè, l'hanno ucciso. Non riuscivo né a ricaricare né a uccidere. Stavo bloccato, veramente. Hanno il martello, raga. Aiuto. Ok. Hanno il martello. Raga, il martello. Ok. No, raga. Ma perché trovo sempre due di loro? Veramente, questa partita mi sta facendo impazzire. Raga, stiamo attenti che questi qua ogni due secondi spuntano con un martello. No, il pompa, no. Dove? Raga, ma che stanno? Dietro le scrivanie. Porca puttana. Cioè, scrivanie e banconi, volevo dire. Sì, vabbè, io col pompa poi. Non ne parliamo. Ma che ci fai nascosto lì? Raga, due col martello. Sì, ma che posso fare col pompa da lontano? Madonna, raga. È io che mi lamentavo della partita precedente. Questa qua, veramente, non si può definire neanche una partita. È un massacro. Quando arriva il pompa, veramente, raga. Non ce la faccio. Eccolo. Sta lì, sta lì, sta lì. Veramente, se è una palla tu là dietro. Che palle. Vedete, sta ancora uno qui dentro. Ma che palle. Ma era quello di prima? Raga, prendetelo. Ok, l'hanno preso. Bravi, bravi. Di qua. Ah, 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 ah. Sì, ma guardate che... Boh, sparano da chilometri. Io non lo so. Di qua, raga. Ti ho visto, ti ho visto. Zitti, zitti, zitti. Sì, sì. Ah, godo, raga. Mi sono vendicato. Era quello di prima. Dietro qui. Godo. Ah, fatemelo dire una volta ogni tanto. Sì, vabbè, tanto subito vengo ucciso. Ok. Levato l'arma a colpo singolo. Ok. Pompa, no, no. Il pompa, no. No. Oddio. Aiuto, aiuto. No, che palle, raga. No. Cioè, veramente li vedi là che si... Si mettono dietro... Sì, 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 sì. Sono tutto tuo. Posso prendere l'upgrade? Non mi ammazza nessuno, vero? Lì, c'è qualcuno? Perché si mettono dietro quel bancone? Ah, l'ha preso, vaff... C***o. Aia! Fine della partita. Una partita che veramente è stato uno schifo totale, non una sconfitta totale. Bene, ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento e iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao! 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 Grazie a tutti.